ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video è la mia prima volta e questo cazzo di braccialetto è il mio primo video ASMR quindi siate buoni cercherò di non ridere cercherò di non far casino ma ovviamente non sarà un ASMR rilassante per niente proprio perchè dopo un po' odio parlare così quindi sicuramente mi uscirà la voce in questo video cercherò di struccarmi dico cercherò perchè sarà difficile non far rumore fare un ASMR dove mi strucco senza fare un bordello e ho portato giù i prodotti che utilizzerò per questa fase di get done ready with me utilizzando questo metodo ASMR per cercare di rilassare se siete amanti dell'ASMR e siete venuti qua perchè pensate che sia una nuova youtuber che fa ASMR no vi dico semplicemente prendete questo video sul ridere perchè io sto ridendo tantissimo silenziosamente se non siete ancora iscritti al mio canale vi invito a farlo entrare a far parte vi invito a far parte della Fairy Family e di iscrivermi qua sotto con l'hashtag FairyFamily se siete nuovi così che io possa salutarvi silenziosamente ok possiamo iniziare vado a mettermi la mia bellissima coroncina di rose che ha spopolato su Instagram ho notato e mi avete chiesto tutti quanti dove l'ho presa bene questa mi è stata regalata da NYX Professional Makeup durante una sessione di make up che ho fatto e dove ero stata filmata per Halloween quindi dovevo fare questo teschio questo diastello su me stessa e loro mi hanno dato questa coroncina di fiori mi sta venendo il mal di cola e non sto parlando vi faccio sentire il rumore vi vado a mettere i capelli indietro con la pinzetta adesso che sono sexy procedo con l'applicazione di questa oh wow cioè sono favola queste ciglia finte che ho su sono delle ciglia finte di mulac mi pare però non ricordo quali sono se le flirty freak of nature no ma flirty forse boh vabbè vado a togliermi le ricette di farvi sentire il rumore va malissimo adesso vado a struccarmi e per struccarmi utilizzo di solito i prodotti di hellopody per tutto il procedimento di struccaggio e skin care però non volevo che questo video fosse frainteso anche per farvi vedere prodotti diversi quindi ho portato i miei preferiti insomma quelli che non posso farne meno e un po' di prodotti diversi che adoro ma che utilizzo meno spesso rispetto a quelli di hellopody che ultimamente mi piacciono tantissimo e mi stanno aiutando tantissimo anche per l'acne devo parlare perché non ce la faccio più raga oddio una voce mi sento un po' la sirenetta tipo quando perde la voce vabbè quindi adesso vado ad utilizzare la Clinique Take the Day Off che è questa questa è un balsamo è un balsamo mettilo a fuoco è un balsamo struccante praticamente ottimo per chi ha un make up pesante cioè tipo se vi siete truccate tantissimo questo rimuove tutto anche la vostra anima quindi state attenti perché poi chi lo sa chi la prende può prenderla il diavolo può prenderla ok quello che faccio solitamente è aprire la mia il mio balsamo come vedete è super usato perché mi piace tantissimo e con le unghie come vedete qua ci sono un sacco di occhiate vado a prendere un po' di prodotto e lo vado a stendere su tutto il viso quindi solitamente vado con due mani poi lo vado a sciacquare quindi dovrò andare su per andare a sciacquare il tutto mi piace il mio microfono boraccio lui si chiama Arnold o anche Ottavio insomma decidete voi che nome dargli o Arnold o Ottavio ehi mi è entrato un capello nell'occhio addio bentornati praticamente mi sono fatta la doccia come vedete quindi adesso vado normalmente vado poi a usare questa mousse detergente di Hello Body è la Coco Fresh una volta agitata vado praticamente a spruzzare questa mousse sulle mani per poi andarla ad applicare su tutto il viso e sciacquare i residui di trucco in eccesso dopo aver fatto ciò sono praticamente pronta per morire vado a sciacquarmi e arrivo no ma è stata un'idea geniale posso andare ad applicare il mio tonico e anche qua come tonico stasera ne voglio usare due giusto per farvi vedere anche i più prodotti utilizzo il Coco Calma che è quello che sto utilizzando da un bel po' non fa molto bene passarsi il tonico così ma andrebbe spruzzato però non abbiamo lo spruzzino quindi lo vado a trascinare diciamo e adesso vado ad utilizzare questa che è la Instant Glow Michelle Water Spray di Fisty che è un un'acqua probiotica idratante da giorno però la utilizzo anche stasera agitiamo il prodotto e poi lo spruzziamo su tutto il viso ok wow oh solitamente faccio anche lo scrub ne utilizzo due uno della Hello Body sempre Coco Pure e un altro della Sandy Eves che è poloso adesso voglio andare a farmi una maschera e rilassarmi da lì utilizzo per la prima volta qualcosa della Pure Term che me l'ha inviata un po' di tempo fa però non ho avuto modo di provarla quindi questa è la prima volta che provo con voi e con me stessa ho già un po' di collagene ed è rilassante purificante e lisciante questa dice che è un trattamento a base di estratti di camomilla collagene e vitamina E la nuova formula riduce le irritazioni cutanee ha proprietà sfiammanti e dona un effetto rilassante per pelli più stressate la pelle inizierà a diventare fresca e il buon umore aumenta modo d'uso aprire la faccina e applicarla sulla pelle pulita di viso collo e corpo lasciare agire la faccina per 15 minuti poi rimuoverla rimuovere il residuo bla 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 hai rotto cazzo perché mi pizzica già non dovrebbe essere rilassante dopo aver applicato la maschera la tengo in posa per 15 minuti e intanto mi rilasso utilizzo questa che se non la conoscete è tipo la mia erba aromatica preferita la sweet grass ed è praticamente buonissima cioè voi la bruciate quando si spegne poi la riaccende e mentre la bruciate questa si diffonde nell'aria ed ha un profumo purissimo tipo di dolce di cupcake non lo so è qualcosa di epico dovete provarla credo che la trovate online pensiamo agli unicorni fate pinta di essere su un campo fiorito o sul mare insomma scegliete il vostro posto preferito siete da soli e vi scappa una scorreggia così la fate poi vi accorgete che non siete soli vi girate c'è un sacco di gente scappate piangete vi buttate da un fosso e la vostra vita finisce ma vi alzate e scoprite che era tutto un sogno che io vi stavo raccontando questo brutto incubo quindi in realtà poi da lì capite che la vostra vita non è una merda ma è bellissima raga io vi saluto chiudo qua la smr adesso sto con la maschera e continuo a montare le cose che devo montare tipo i video e bla 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 io spero che questo video a smr vi sia piaciuto se così fosse lasciatemi un bel pollice in su e niente scrivetemi se volete altri video smr e datemi magari delle idee che tipo di video volete che cosa devo fare insomma se devo togliermi il braccialetto come dobbiamo chiamarlo Arnold Ottavio insomma vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao